Musica Amici sportivi a tutti voi un cordiale saluto, apriamo con il basket domenica, il campionato di A1 femminile è fermo, la sosta è dovuta agli impegni della nazionale, allora facciamo un bilancio, tracciamo un bilancio su questo primo scorcio stagionale del basket Lemura Lucca. Settimana di pausa per il campionato di A1 femminile dopo le prime sei giornate di un torneo che si profila quanto mai interessante, il calendario dice che bisogna dare spazio alle nazionali e così sarà, il Gesam Lemura Lucca di Cocce Serventi che non ha giocatrici impegnate a livello internazionale può tracciare un primo bilancio su questo primo scorcio stagionale. I numeri ci suggeriscono che dopo la bella vittoria sulla Gea Sesto San Giovanni la squadra del presidente Cavallo è risalita a metà classifica con sei punti frutto di tre vittorie e altrettante sconfitte. È abbastanza palese che calcolatrice alla mano a Gatti e compagni mancano alla fine due punti della gara interna con Broni, complice anche a un pessimo arbitraggio. Per il resto un andamento in linea con quelle che erano le previsioni, sappiamo che l'appassionato pubblico del Palatagliate si era abituato negli ultimi anni a squadre molto forti e divertenti. L'apice dello storico scudetto del 7 maggio 2017 è un ricordo ancora molto vivo e palpabile ma seppur a malincuore va archiviato. Bisogna guardare al futuro ed un roster che per il secondo anno consecutivo è stato rifatto di sana pianta. In realtà anche il livello generale del campionato è salito con almeno 5-6 squadre tutte di ottimo spessore, quindi ogni partita può nascondere insidie e di gare facili francamente ormai non ce ne sono più. In questi giorni il coach Serventi approfitterà della sosta per lavorare sodo con il gruppo. Alla ripresa del campionato ci sarà la trasferta più difficile sul campo della Famila Schio campione d'Italia. La tradizione non è certamente favorevole a Lucca, il pronostico pende tutto dalla parte delle Venete, ma sarà un match che servirà a capire quanto e come il Gesan Lemura è cresciuto e quali potranno essere realmente le aspirazioni in una stagione comunque agli albori. Ancora in tema di sport al femminile, sabato sera alle 21 la Nottolini, la bionatura Nottolini-Capannori di scena sul campo del quotato Roana Macerata. Si tratta di una trasferta insidiosa, la squadra marchigiana occupa il quarto posto ma non si nasconde obiettivi di vincere questo campionato, ma con la bionatura di coach Becheroni nulla si può mai dare per scontato. Le bianconere sono al secondo posto, finora cinque vittorie in altre tante partite. I motori Riccardo Pera è a Shanghai dove domenica correrà la prova del Mondiale Endurance, il 19enne pilota di Marley, ha subito staccato nelle prove libere il quinto tempo assoluto. Riccardo è risultato anche il miglior pilota in pista con licenza silver. Ricordiamo che sabato ci saranno le prove ufficiali con relative qualifiche e domenica la gara alle 4 di notte, ora italiana, quando in Cina saranno però già le 11. Siamo al calcio, facciamo il punto quando ormai siamo ad un terzo del campionato di eccellenza. Passo dopo passo, di giornata in giornata, il campionato di eccellenza vivrà domenica il suo decimo atto stagionale, che significa essere giunti ad un terzo del cammino. Torneo finora piuttosto complicato per le nostre tre rappresentanti che ricordiamo in ordine alfabetico e di classifica, Castelnuovo, Camaiore e Vorno. Se le prime nove giornate hanno dato indicazioni attendibili, sulle immagini di Castelnuovo, Coiopelli 0-0 possiamo affermare che il destino delle compagini nostrane non è ancora scritto ma che pare piuttosto indirizzato. Di fatto Castelnuovo, Camaiore e Vorno si trovano in una posizione di classifica ancora fluida, visto che il quinto posto e il play-off non sono così lontani ma che i play-out e gli spareggi salvezza sono ancora più vicini. Certo, classifica corte, quindi torneo che probabilmente solo più avanti scremerà le forze in campo, del resto anche le gare in programma domenica prossima potranno fornire indicazioni interessanti, per non dire utili. Trasferta storicamente ostica per il Castelnuovo sul campo del Ponte Bugianese, formazione forse non trascendentale che però domenica scorsa ha battuto il forte San Marco Avenza. Compito sulla carta è piagevole per il Camaiore, che riceve l'atletico Piombino penultimo in classifica, e per il Vorno, che a sua volta ospita il fanalino di coda a Cenaia. Ma ribadiamo il concetto, non ci sono partite facili e quindi tutti gli impegni vanno affrontati con la massima concentrazione e determinazione. Ancora il calcio, dopo il clamoroso tonfo nel turno infrasettimanale, il presidente del Giviborgo Fabrizio Nieri ha premiato il giovane attaccante Nicolò Micchi, che sta dimostrando impegno e attaccamento alla maglia. Micchi tra l'altro ha segnato il gol della bandiera nella gara perduta 4-1 dalla squadra di Pagliuca contro l'Aglianese. Prova strepitosa di Daniele Del Nista della Virtus Ducca all'Alf Marathon di Livorno, seconda posizione assoluta al traguardo per l'atleta bianco-celeste. Una crescita inarrestabile, quella di Nista che è tornata ad indossare la maglia della Virtus, andando rapidamente ad affermarsi come l'atleta lucchese più forte del momento. Sempre il road team della Virtus si è reso protagonista alla maratona di Ravenna, dove Gideon Kurgat si è imposto dopo un finale al cardiopalmo. E siamo al nuoto con il meeting internazionale Mussi Lombardi-Femiano, giunto alla 42esima edizione. Sabato e domenica la piscina Massimo Rosi del complesso La Bastia di Livorno ospiterà la 42esima edizione del meeting internazionale di nuoto Mussi Lombardi-Femiano, valido anche quale 14esimo Gran Premio Italia 2018. La prima giornata è riservata agli assoluti, la seconda agli atleti della categoria ragazze juniores. Non sarà presente per la prima volta la campionessa Federica Pellegrini, che ha gareggiato a Genova ad un meeting in ricordo delle vittime del crollo del ponte Morandi. La manifestazione sarà l'occasione per valutare lo stato di forma degli atleti azzurri in vista dei campionati del mondo in Cina a Aganzo, dall'11 al 16 dicembre. Ed è stata aggiunta anche la gara dei 100 metri misti maschi e femmine, che consentirà il completamento della rappresentativa nazionale, che parteciperà ai prossimi mondiali. Tra gli atleti partecipanti figurano la campionessa azzurra Simona Quadarella, tre medaglie d'oro agli europei di Glasgow, il campione livornese del mondo in carica 800 stile libero Gabriele Detti e il campione di Charles Leclos sudafricano, campione olimpico di 200 metri delfino a Londra. Chiudiamo con l'equitazione, Alessandra Deverio del centro equitazione La Luna di Lucca è la vincitrice indiscussa del campionato regionale di salta ad ostacoli nella categoria criterium primo grado. La Kermesse si svolta nelle strutture coperte dello scoiattolo Valdera Equitazione di Treggia, visto in gara circa 200 partecipanti. La Deverio ha montato la femmina Clarissa, cavallo grigia di origini tedesche di 8 anni, solo 4 le penalità nella somma dei punteggi dei tre giorni di gara del campionato, che alla fine ha decretato Alessandra Deverio campionessa regionale indoor 2018 della categoria criterium primo grado senior. Complimenti ad Alessandra Deverio. Ed è tutto per quanto riguarda la pagina sportiva del TG Noi, una breve pausa e subito dopo la terza ed ultima parte del TG Noi.